Cinque famiglie in cerca di un tetto hanno deciso di occupare da ieri mattina 16 alloggi popolari in Viale Euripide, schierandosi contro l'amministrazione comunale. Via Euripide, nuovi alloggi, 16 alloggi popolari che non sono stati affidati a nessun attamino. Il comune ha risposto chiaramente no, come ci hanno detto gli occupanti, che da stasera appunto stanno occupando queste abitazioni. Vediamo alcune interviste e le condizioni in cui stanno appunto occupando. L'amministrazione comunale ci dice no, tutte le porte sono chiuse. Io voglio precisare che sono già stata disagiata circa sette anni fa e a causa della frana successa quando ho avuto uno strato. L'ex sindaco Maria Grazia Pondara dice tutt'oggi che al comune di Naro ha lasciato due milioni e mezzo di euro solo per la frana. Dove sono andati a finire questi soldi? Dove? Lui dice che il comune è in deficit. Tutto questo ci ha portato a queste cinque famiglie di fare questo passo. Ecco cos'è stato, questo passo. Io non so più a chi rivolgermi. Non so più a chi rivolgermi. Non so più a questa mattina, 8 marzo, perché le donne passano al giorno così nella storia della città per questo passo. Veramente. Non so più a questo passo, perché è stata una donna di quei comuni dovessi a... Sì, sì, sono stata io personalmente insieme ad altre mamme qui presenti a fare questo passo. Fino a quando l'amministrazione non si muoverà, il signor sindaco verrà qua e gli deciderà va bene, prendetevi l'appartamento, definitelo voi e tutto sarà chiuso.